Gentili telespettatori, buona giornata. Nel 2023 abbiamo il minimo storico di nascite e secondo l'Istat chi sono i nuovi poveri in Italia? Perché la povertà è aumentata, di poco mi è aumentata nel 2023, perché da prima della pandemia, quindi dai dati del 2019 ad oggi, la povertà è aumentata tantissimo, tantissimo. Da prima della pandemia ad oggi la povertà è aumentata molto. Nel 2023 un pochino, uno 0,1, ma cresce la povertà. Ma chi sono i nuovi poveri? I nuovi poveri sono dipendenti, sono persone che lavorano, sono poveri che lavorano, non poveri lavoratori, ma lavoratori poveri, quindi non è la stessa cosa, no. Poveri lavoratori è come dire poverino, un povero lavoratore, no. Lavoratore povero significa che lavori e sei povero. Il rapporto è annuale dell'Istituto di Statistica Italiana, Istat. I poveri sono ai massimi dagli ultimi dieci anni, non ci sono mai stati così tanti poveri in Italia. Poche nascite, povertà assoluta che sale con i lavoratori dipendenti, che sono i nuovi poveri. Oggi il povero non è quello che ha perso il lavoro. Lì si va nella povertà estrema, perché non ci sono, spesso molti non hanno la rete familiare, sapete che c'è una rete familiare in molti casi che ti salva, vieni a vivere di nuovo, vai a vivere di nuovo con i genitori, ma a volte i genitori ti dicono ma che vuoi? Ma chi sei? Ma chi te conosce? Bene, oggi chi lavora è povero. Diciamo che il 30% dei lavoratori è povero, un altro 30% è quasi povero. Poi c'è un altro 30% che non è né povero né quasi povero, ma dal vivacchio fino alla Ferrari, ok? Dove sta il lavoratore dipendente, non certo sta in quel 30% che sta da che se la caricchia fino in su, no, il lavoratore dipendente sta nel 66% di povero o quasi povero, quindi il lavoratore dipendente che prende intorno ai 1000€ è in povertà. Nessuno dice io sono, ma come povero, ma cosa dici? Io ho la casa, ho la macchina, ho fatto il weekend lì, con 1000€ sei povero, anche se tu ti senti ricco, benestante, anzi, no. Poi c'è il dipendente che prende 1500, 1600, dici quello è povero? No, è quasi povero, nel senso che quello da 1000€ non sa come mangiare, perché paga magari l'affitto di 700 e con le bollette non gli rimane neanche per comprare un biscotto scadente al discount. Quindi c'è il dipendente povero e poi c'è il dipendente che prende 1500 e dice io ho da mangiare e ce l'ho, da mangiare e ce l'ho, però se devo cambiare le scarpe è un problema, se devo andare a mangiare una pizza con un amico o un'amica non se ne parla proprio, il gelato rinuncio, non parliamo delle ferie. Ecco, oggi non esiste più il dipendente che prende la famiglia e dice ce ne andiamo una settimana a Rimini, non esiste più. Oggi a Rimini ci vanno gli stranieri che stanno tornando perché hanno degli stipendi molto più alti e l'italiano non si può permettere la vacanza che si potevano permettere tutti qualche tempo fa a Rimini-Riccione, un'altra abbronzatura, un'altra canzone che cantava Giovanotti. Quindi i nuovi poveri sono i dipendenti, triste, tremendo, mentre il PIL tutto sommato le aziende vanno bene perché sono competitive con le altre aziende in Europa e certo quando c'è un costo del lavoro che da terzo mondo, quando tu paghi i dipendenti come in un paese del terzo mondo, è ovvio che poi sei competitivo perché puoi abbassare i prezzi del tuo prodotto e competere con le altre aziende perché tu, i tuoi dipendenti, li paghi quattro volte meno che in Germania. E' certo che sei competitivo. Aumenta l'export e vai! Aumenta l'export grazie ai lavoratori poveri. Giusto? Perché puoi mettere un prezzo competitivo, un prezzo abbordabile, vai nei mercati stranieri e competi con gli altri perché hai il costo del lavoro che equivale a quello del terzo mondo, più o meno. O paesi in via di sviluppo, se vi piace chiamarli così. Quindi, a parte l'ennesimo record storico negativo per le nascite, c'è il record storico della povertà. A questo punto nel 2023 peggiorano, come vi dicevo, gli indicatori di povertà assoluta che ha colpito il 9,8% degli individui e l'8,5% delle famiglie. Si raggiungono così livelli mai toccati negli ultimi dieci anni per un totale di 2 milioni 235 famiglie e 5 milioni 752 mila individui in povertà. Stiamo parlando del 10% degli italiani sono in povertà. L'incremento di povertà assoluta ha riguardato principalmente le fasce di popolazione in età lavorativa e i loro figli. Il reddito da lavoro, in particolare quello da lavoro dipendente, ha visto affievolirsi la sua capacità di proteggere individui e famigli dal disagio economico. Gli indicatori di povertà negli ultimi dieci anni mostrano una convergenza territoriale tra le ripartizioni ma verso una situazione di peggioramento. La povertà assoluta a livello familiare è salita dal 6,2 all'8,5% e quella individuale dal 6,9 al 9,8%. Rispetto al 2014 sono aumentate di 683 mila le famiglie in povertà. Erano 1.552.000 e circa 1,6 milioni gli individui in povertà. L'incidenza di povertà assoluta familiare è più bassa nel centro 6,8% e nel nord 8%, al sud addirittura arriva al 10,2%. Nelle isole il 10,3% Sicilia e Sardegna. Lo stesso a casa è per l'incidenza individuale. 8% di poveri al centro, 8,7% al nord-est, 9,2% nel nord-ovest, 12,1% sono i poveri al sud e nelle isole. C'è da aggiungere qualcos'altro? Sì, salario minimo? Eh, siamo già in ritardo direi. Che dite? Eh sì, siamo già in ritardo. Lo vogliamo fare o no? Cosa stiamo aspettando? Che ce lo imponga l'Europa? Speriamo a questo punto. Grazie a tutti e arrivederci a presto.